ciao ragazzi e ciao ragazzi allora un video prodotti finiti non lo registro da una vita ho tanti di quei prodotti che ho smaltito in questi due anni che probabilmente i prossimi 700 video saranno monotematici però iniziamo subito altrimenti qua per evitare di fare un video di tre quattro ore perché ce n'è di roba da da parlare di roba di cui parlare ho deciso di mostrarvi iniziare a mostrare i prodotti e riempire questa busta finché la busta finché la busta non sarà più scusate a quel punto stoppo e magari ricomincio con un altro video prodotti smaltiti allora iniziamo subito se no ci perdiamo solo in chiacchiere allora ho terminato tutta una serie di dentifiche eccetera cercato di conservarmi almeno uno per tipologia finito la zeta compri extra white con potenza sbiancante eccezionale alla menta non compriamo questo prodotto per una questione di sbiancamento dei denti quanto adoro la menta mi piace il profumo di menta che rilasciano questo idea 75 ml e poi spesso si trova in offerta poi ancora un dentifricio della colgate sensation white da vedete più bianchi in dieci giorni con dei micro cristalli per scabbare i denti anche questo da 700 da 75 ml questo vabbè è un classico dentifricio poi della sien ho finito le salviette delicate struccanti per pelli secche e sensibili senza profumo queste ne erano 25 queste della sien sono state molto blande non mi hanno struccato benissimo specialmente la linea di eyeliner quando la faccio quindi non mi sono piaciute tantissime sono metti in turchia poi ho terminato una confezione di cunei di lattice per il make up della vintage accessori sono quattro spicchietti tipo torta io preferisco questi alle blender quelle la ho detto la struttura alcune i formi mi piace di più per il contorno occhi anche la grandezza la preferisco quindi per ora sto utilizzando una di essence che o mio dio devo andare a comprare un'altra confezione di queste praticamente tutto per dirvi che mi serve della sciacca un'altra confezione di salviette queste le innovative beauty sempre 25 salviette struccanti deterge strucca deterge e idrata tre in uno queste erano belle impregnate ma bruciavano leggermente gli occhi quindi non mi sono piaciute all'ennesima potenza però le utilizzate molto volentieri della essence di non so quante quanti anni fa di una linea limited edition la blue me up erano delle lunette per da incollare delle tips da incollare sull'unghia per fare l'effetto manicure però il tipo di pizzo la prima volta che li misi misi su tutta l'unghia si l'effetto era carino però era una semplice da lontano sembrava una semplice french manicure poi a un certo punto visto che a me ne arrivasse solo alcune le ho iniziato a mettere per esempio solo sull'anulare e lì era molto più carina poi dei provenzali un sapone io adoro questo sapone dei provenzali questo fu un regalo della mia compagna di pallavolo della linea hashtag bioverde per per donne vere era un prof un saponetta da 100 grammi non c'è profumo saponetta vegetale extra fina all'olio alle mandorle biologiche dolci biologiche l'ho adorato morbidissima la utilizzavo sia sul corpo per lavarmi per larmi le mani è stata una un piacere utilizzare questa saponetta come detergente ne avevo due se non sbaglio tutte e due la stessa ce l'ho usata entrambi con molto piacere stavo inceppando da sola ancora una confezione di salviettine questa è della clendi dermatologicamente testate con acido ialuronico a doppio peso molecolare ph 5.5 30 pezzi queste erano belle strong hanno rimosso qualsiasi tipo di trucco eyeliner trucco waterproof rossetti rossi tipo quello di mac questo veramente ha stroncato qualsiasi tipo di trucco e il tessuto era morbido cotone azione anti impurità queste mi sono piaciute tantissimo non mi ricordo dove le ho prese poi ancora le salviette sono tutte qua della laurella visage salviette struccanti viso occhi e labbra per anche per occhi sensibili tessuto all'idea da pelasticizzato con effetto cutaneo massaggiante rimuove anche il trucco water proof estratto di camomiglia olio di mandorle pro vitamina b5 vitamina e micella multivitaminica anti radicale compro vitamina b5 e vitamina e queste sono venti le usate sono anni che le uso e mi piacciono sempre molto il tessuto è bello pregno e durano belle piene di prodotto fino alla fine l'unica confezione rani di salviette queste della lisa queste sono le pro derma con complesso minerale anti pollution tech rimuove impurità e smog sono 72 pezzi l'ho finito da pochissimo azione struccante purificante per pelli grasse impure 97 per cento di ingredienti di origine naturale testato occhi e viso esclusivo e più esclusivo tessuto bifase con micro lievi lo adorate piene di di le tengo sempre a testa in giù quando le conservo ma si più perfettamente non si asciugano struccano qualsiasi cosa mi sono piaciute tantissimo poi ho terminato della viola una crema mani con pantenolo e vitamina e della bocco questa crema la utilizzo spesso perché la lasciano come campioncino quando provava a fare le le riunioni gli expo per i dentisti queste da 50 ml protegge idrata regalo un film protettivo alle mani mi piace sempre mi sa che c'è anche qualche recensione sul canale se la ritrovo la metto giù nell'info box poi ho terminato della dermattiva filler punti critici contorno labbra e collo da 30 ml era una specie di siero gelatinoso che utilizzato prevalentemente come contorno occhi e all'esigenza come contorno labbra l'ho usato in estate e mi è piaciuto tantissimo perché non era troppo pesante ma idratava non lasciava segnetti strani di disidratazione agli occhi l'ho regalato anche una mia sorella e anche a lei è piaciuto tantissimo lei non è una una frequente non mette frequentemente crema col crema contorno occhi io la metto da quando avevo 15 anni e questa mi è piaciuta tantissimo anche la confezione è bella perché in vetro e poi c'è questo push che è comodissimo per fare entrambi gli occhi in mezzo push l'intero push facevo anche il contorno labbra se la ritrovo questa qua la devo ricomprare assolutamente questa mi fu regalata da mio suocero qualche anno l'anno scorso non ricordo mi piace un casino poi della delise solaire dopo sole ice freschezza immediata con aloe vera e pantenolo rinfrescante in giallo con vitamina e di questo c'è anche il la recensione quindi ve la lascio giù nell'info box è un tubone da 250 ml e per due volte consecutive quindi per due state consecutive è stato il mio dopo sole che utilizzato che se lo trovo quest'estate lo riprendo perché lascia la pelle freschissima da quel poster di freschezza extra che dopo la giornata di male mare è la cosa più bella di questo mondo aiuta a rivitalizzare anche le gambe stanche questo mi è piaciuto tantissimo poi della pupa ho terminato speciale corpo fluido idratante anti secchezza idrata nutre ripara arricchito con acido ialuronico oligo elementi pro vitamina b5 burro di karité la confezione da 400 ml più piccolo non lo sapevi scrivere trattamento di idratazione profonda ripristina e rinforza la naturale barriera protettiva della pelle e ne conserva le conserva si e potenzia il naturale grado di idratazione a basso rischio di allergie vabbè mi è piaciuta perché è fluida perché leggera perché si assorbe velocemente perché lascia idratato il corpo poi ha un bel bottiglione grosso ha un buon profumo l'ho utilizzato anche sui piedi e sulle mani tranquilla l'ho utilizzato anche sui piedi di mio marito tranquillissima non lascia quell'effetto scivolo ottima ovviamente ottima ho terminato della garnier ultra dolce shampoo illuminante formato quello grande camomilla e miele di fiore per illumina e armorbidisce i capelli capelli chiari estratto naturale queste da 400 ml lo utilizzo da sempre lo ricerco spesso mi piace tantissimo e poi profuma tantissimo di camomilla sesto discorso per i dentifrici anche per quanto riguarda doccia schiume eccetera ne prenderò ne ho conservati random alcuni non tutti perché sono veramente era la fine in due anni potete immaginare quanti quanti bagno schiume dentifrici e detergenti intimi abbiamo utilizzato comunque questa qua l'ho conservata perché mi è piaciuto l'odore spuma di champagne bagno doccia crema latte di mandorle burro di karité idratante con ingredienti di origine naturale dermatologicamente testato 100% italiano prodotto italiano ha un profumo e 650 ml un profumo e una morbidezza sul corpo profumo si sente ancora aspettare ha un profumo bellissimo lascia la pelle morbida se vai di fretta non hai neanche bisogno obbligatorio di idratarti mi è piaciuta tantissimo che schifo qua sotto è sporca mi stia sporcando tutto mamma come sei sporcata mi sa che domani dovrò pulirmi anche il mobile perché se stessi stavano fuori vabbè ok mi è piaciuto se capite che mi è piaciuto mi è piaciuto poi ho terminato della batista lo shampoo secco questo per capelli biondi l'anno scorso comprai una confezione su amazon da sei quindi andrò avanti per un bel po' questa era la prima confezione delle sei che ho terminato io non non avevo mai provato shampoo a secco non lo usavo mai poi mi è capitato di dover andare fuori per più volte per pochi giorni e quindi è molto più comodo portare uno shampoo a secco cioè fare lo shampoo prima di partire e tamponare con uno shampoo a secco e poi rifare lo shampoo quando rientri a casa lo uso anche per volumizzare eventualmente faccia un'acconciatura mettiamo tutte le virgolette di questo fondo e questo è quello che mi piace di più perché non lascia i capelli bianchi anzi lascia un leggero colore dorato sui capelli quindi biondo sui capelli della Nivea ho terminato il gel detergente purificante acqua ripurificata alga oceanica per pelli da miste a grasse questo ha anche dei piccoli micogranuli per fare un piccolo scrub è la seconda volta che la compro se non sbaglio c'è una recensione quindi ve la lascio giù nell'info box mi è piaciuta tantissimo è profumata si risciacqua facilmente non lascia la pelle secca anche se indicata più per pelli miste e grasse io sono un misto inverno tendente al secco e invece in estate tendente al grasso questa lo utilizzate in estate quindi perfetta ma anche quando lo utilizzate in inverno perfetta lo stesso mi è piaciuta molto poi ho terminato della Winnie un levasmalto acetone 100% rimuove lo smalto permanente mi sa che avevo sbagliato ecco perché rimuoveva qualsiasi tipo di smalto e anche glitter questo l'ho fatto comprare a mio marito non era ancora il mio marito e ho chiesto uno con l'acetone perché preferisco quelli con acetone mi si era staccata la batteria avevo chiesto di comprare a mio marito un acetone e se ne è venuto con questo che è anche per il seme permanente ma poverino che ne sapeva io non ci avevo fatto caso io preferisco sempre il levasmalto con acetone perché tolgo prima e rimango con meno tempo sull'unghia e mi sembra di rovinarla di meno poi ho terminato e si vede questo smalto blu ma si è cancellato completamente la scritta però era il numero 44 e forse era della lippo lo lascerò indicato giù nell'info box perché non non c'è più indicazione di sorta qua sotto no forse era della lippo stesso discorso per i dentifrice per il bagno schiuma stesso discorso vale anche per i detergenti intimi ne ho me ne sono conservati alcuni tanto per questa è della Neutral Med PH 4.5 quello indicato per le signore per le donne nella fase riproduttiva della propria vita perché è un PH 4.5 questo si chiama delicatezza detergente intimo un complesso micellare fino a due volte più delicata azione protettiva sì ideale per le donne in età fertile per l'uso quotidiano 200 ml detergente intimo un altro shampoo però questo della schulz nuova formula ultra delicato 100% camomilla bio capelli chiari da 250 ml questo è un forse il mio shampoo preferito alla camomilla ve lo ripeto da anni e confermo della Pantene finalmente ho finito questo gel spray volumizzante per capelli fini da 150 ml lo utilizzavo soltanto quando facevo la piega liscia e lo mettevo solo in questa zona per dare un po' di volume perché come potete vedere non ho volume è rimasto una pucaccetta qua però basta basta mi è piaciuto però basta un'altra dermoattiva questa è una crema caviale rosso per pelli impure sensibili questa crema da 50 ml d'oridratazione h24 nel senso che non c'è bisogno io la metto anche la sera però dice che h24 l'idratazione quindi tecnicamente andrebbe messa una sola volta al giorno che poi quella che sto utilizzando ora no stavo scherzando era la stessa etichettina rossa pensavo che era la stessa questa mi è piaciuta perché era adatta alla vita in una zona di smog io abito a stare non è così smoggosa però sempre comodo ogni tanto approfittare di queste creme che aiutano anche le pelli impure a respirare meglio le creme della dermattiva ne ho tantissime perché mio suocero era un un rappresentante quindi mi ha dato un una scatola di creme che sarò a posto per una vita intera questa mi è piaciuta della Lush Cartipot crema mani e corpo 100% ricavato viene devoluta alle piccole associazioni attiviste campagne e altre buone cause queste sono quelle linee di Lush che aiutano le associazioni a autosostentarsi questa crema ricca in nutrienti dal profumo dolce e floreale è piena di ingredienti buoni buoni provenienti dalla comunità agricole che lavorano nel rispetto della rigenerazione è una confezione da 240 grammi se non sbaglio quelle di Lush sono le puoi riportare indietro devo controllare che profumo ancora si sente buona 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 mi è piaciuta molto è una crema spumosa che idrata tantissimo che si assorbe nel giro di poco lascia questo profumo addosso buonissimo l'ho adorata veramente l'ho adorata ottima ok la busta è piena a metà però abbiamo visto tanti e tanti prodotti quindi direi che per stasera stacco qui ma anche perché sono senza voce e tra un po' dobbiamo anche scendere allora io ti ringrazio per aver visto questo video mi raccomando se ti piacciono i miei video e mi vuoi supportare lo puoi fare sempre con il pollice in su e iscrivendoti al canale il link lo trovi qui vicino alla mia faccia oppure giù nell'info box di nuovo ti ringrazio per avermi aperta e noi ci vediamo nel prossimo video ciao ragazze ciao ragazzi in gamba